Il convegno di oggi è l'occasione per fare il punto su quella che è sicuramente una grande prospettiva per il futuro quindi vedere se ci sono possibilità di creare o di riqualificare gli edifici esistenti e portarli verso quello che è un po' un miraggio gli edifici energia quasi zero. È importante mettere insieme tutte le professionalità che il mercato ci mette a disposizione perché solo andando avanti insieme uniti si riesce probabilmente, si riuscirà probabilmente a raggiungere questo obiettivo virtuoso che un po' le leggi, un po' le necessità ci costringono a perseguire. Chiaro che è un progetto importante, virtuoso come si diceva prima che ha senso e probabilmente troverà concretezza nel momento in cui ci saranno anche le risorse finanziarie da qui è anche interessante lo spunto proprio di valutazione di quelle che possono essere i meccanismi di sgravio fiscale o di detrazione d'imposta legati al mondo delle ristrutturazioni e quindi anche alla nuova prospettiva degli edifici a energia quasi zero.